ciao a tutti ragazzi bentornati nel canale di vagitaly gli amici di carlin kit ci hanno mandato un dispositivo nuovo è sempre il classico diciamo boxettino che ci permette di creare una connessione wireless con il nostro smartphone ma questo si chiama 2R perché è un modello se vogliamo due in uno a differenza per esempio del carlin kit 4.0 che avevo già recensito questo dispositivo è molto più intelligente perché perché se vi collegate col bluetooth di uno smartphone android la vostra autoradio il vostro sistema multimediale rileverà una connessione android auto wireless se invece connettete un iphone sempre con lui la vostra autoradio si collegherà con il telefono e quindi poi anche col box in modalità apple carplay qual è il vantaggio il carlin kit faceva già questo in realtà perché permetteva già di connettersi sia con iphone che con android però quando vi connettevate anche con android perdevate la gestione telefonica della vostra radio questo con questo dispositivo questo problema diciamo non c'è più l'avevo già spiegato con alcuni vecchi video quindi fondamentalmente la gestione lato radio è migliore diciamo soprattutto se avete un android se avete un iphone il carlin kit 4.0 bene o male faceva la stessa cosa il vantaggio infatti è proprio la doppia gestione dei due telefoni quindi l'abbinamento ve lo faccio poi vedere dopo con un iphone che ho qui è molto semplice dovete sempre solo cercare il bluetooth e andarlo collegare ma bando alle ciance andiamo ad attaccare il cavetto usb alla nostra autoradio che vi ricordo deve necessariamente supportare android auto ed apple carplay mi raccomando ve lo faccio vedere bene qui vedete apple carplay android auto devono essere supportati dalla radio andiamo a collegarla ed ecco il carlin kit lì sotto collegato e 2 air che è il modello vedete qui di carino anche questo led che lampeggia ci fa capire che si è fondamentalmente connesso quando parte l'icona è rossa poi diventa blu nel momento di pairing ossia di accoppiamento e poi dopo è verde lo potete ovviamente come al solito nascondere dentro un cassettino o in un posto simile non vi ho detto vabbè solito mini unbox insomma all'interno della confezione ci sono i soliti cavetti usb in base al tipo di radio c'è già il cavetto giusto perché vi danno sia l'usb c che l'usb c che l'usb un po più grande quella un po più datata per la mia radio per esempio va benissimo questo e l'usb c manualetto di istruzioni dove c'è scritto fondamentalmente come si aggiorna e come si fa il primo abbinamento ma come vi ho detto è banalissimo basta andare a cercare il bluetooth del dispositivo e ve lo faccio vedere fra due secondi con iphone con android vedete che la parte dell'android auto wireless è già perfettamente funzionante non ho dovuto fare niente a parte cercare bluetooth e sul discorso della gestione telefonica ecco vi faccio vedere che per esempio questa la mia radio ha questa gestione telefonica dove io posso continuare diciamo a gestire le chiamate via bluetooth leggere sms lista chiamate e posso anche poi eventualmente gestirlo dall'applicazione telefonica di android auto questa cosa con iphone invece non funziona perché apple ha un protocollo diverso il bello appunto di questo box è che se avete android non perdete la funzionalità telefonica integrata nella vostra radio proprio perché viene visto come un dispositivo android auto quando ci si collega con android andiamo ora a connettere l'iphone vi faccio vedere la differenza allora su iphone dovete semplicemente andare nelle impostazioni del bluetooth vedete e a cercare lui ossia l'autokit in questo caso lo chiama 41f poi non so se sia uguale per tutte le radio si connette sulla radio dovete dare l'ok per la funzionalità dell'apple carplay qui probabilmente ci chiederà di abbinare il carplay forse sì forse no in questo caso vedete dice che già connesso gli dobbiamo dare l'ok per usare il carplay adesso lui ci pensa un po nel frattempo vedete qui che è partito l'abbinamento e tacchete quindi ora siamo in modalità apple carplay wireless vedete qui c'è l'iphone collegato poi lo posso anche la prossima volta non serve ovviamente fare l'abbinamento è già tutto abbinato e avete tutte le vostre applicazioni la differenza che vi dicevo prima è che quando siete in modalità iphone quasi tutte le radio non hanno la funzionalità della rubrica telefonica perché è gestita solo ed esclusivamente dentro vedete quando io vado dentro ok automaticamente mi apre l'applicazione telefonica perché chiama già telefono questo è come funziona l'apple anche carplay col cavo è intendiamoci non è una una limitazione della funzionalità del wireless funziona così la differenza appunto è che con android avete visto la gestione telefonica con la radio rimane invece col carlin kit 4.0 questa cosa si perdeva anche se si era connessi con android ovviamente anche con l'apple carplay wireless funziona tutto perfettamente avete visto due secondi si è abbinato la prossima volta che entrerò in macchina lui cercherà o l'iphone o l'android perché li ho abbinati tutti e due il primo che trova ci si collega quindi questo carlin kit adware è assolutamente approvato carino compatto collegato al volo abbinato bluetooth e ha funzionato nulla da dire come tutti gli altri dispositivi carlin kit funziona bene costa una cavolata lo trovate su amazon vi lascio il link in descrizione e se ve lo consiglio e si comprate questo perché è il modello più aggiornato e diciamo con più funzionalità proprio perché può gestire tutti i telefoni quindi vi faccio un esempio classico voi avete android la moglie all'iphone con questo entrambi potete usare la macchina senza problemi e entrambi gli smartphone sarà come se fossero collegati col cavo ma invece andranno ovviamente in modalità wireless quindi molto molto più comodo dalla guitar è tutto ragazzi mi raccomando date like se avete un amico che ha una radio un po più datata della delle ultime uscite insomma e volete fargli un regalo e fargli diventare il telefono wireless diteglielo insomma potete regalarlo oppure regalatelo magari a voi stessi alla moglie a chi vi pare il dispositivo funziona molto bene approvato da Vagitaly ci vediamo alla prossima mi raccomando iscrivetevi al canale grazie a tutti Grazie a tutti